Salve, sono Marco Santinato, amministratore delegato di Per Consulting e docente Cineas. Mi occupo di gestione dei rischi di impresa ed è questo di cui oggi vorrei parlarvi. Il rischio è insito in tutte le attività e saperlo gestire in modo corretto può diventare un importante fattore di successo per qualsiasi impresa. Ogni evento inatteso, infatti, rischia di avere delle ripercussioni critiche, a volte tali da mettere in gioco la sopravvivenza stessa delle attività che vengono svolte. E questo è ancora più vero nella situazione attuale dove la vulnerabilità delle imprese di ogni settore, di ogni dimensione, ma anche delle strutture della pubblica amministrazione, è aumentata in modo notevole per effetto del cambiamento climatico, di una crisi finanziaria pervasiva e delle perturbazioni di un mercato che è sempre più globalizzato. Negli ultimi 50 anni, in particolare, gli eventi catastrofali legati al cambiamento climatico nel mondo si sono quintuplicati in numero, ma sono aumentati di 15 volte in termini di costi. Ed Italia, con una lunga tradizione di dissesto idrogeologico, non fa purtroppo eccezione. Quando si verificano situazioni di crisi, ogni attività può essere compromessa in un modo più o meno pesante. E in caso di crisi, la sopravvivenza di qualsiasi impresa, indipendentemente dalle sue dimensioni, dipende dalla sua capacità e rapidità di reazione, ovvero dalla sua resilienza. Per resilienza intendiamo appunto la capacità e la rapidità di una organizzazione di ritornare nelle condizioni precedenti una situazione negativa, dopo che questo evento negativo l'abbia colpita. L'obiettivo fondamentale, quindi, è quello di ritornare il più rapidamente possibile alla situazione preesistente l'evento negativo e inatteso. Ogni impresa e ogni area della pubblica amministrazione dovrebbe quindi proteggere tutti i fattori produttivi che ha a disposizione, ovvero dovrebbe salvaguardare i propri beni, il proprio patrimonio aziendale e la continuità operativa, cioè la capacità di continuare la produzione o di erogare dei servizi nel tempo. Salvaguardare le attività, e cioè proteggerle efficacemente, comporta il passaggio a un nuovo modo di operare, che viene chiamato gestione dei rischi. Con il termine di gestione dei rischi, o risk management, usando un termine in inglese, si intende appunto la gestione integrata dei rischi in una organizzazione, sia essa un'azienda oppure la pubblica amministrazione, mediante la conoscenza, l'eliminazione, la riduzione, il trasferimento e il controllo dei rischi stessi. Gestire i rischi in modo integrato comporta numerosi benefici per tutte le imprese. Ne citiamo qualcuno. Una migliore protezione dei beni aziendali, a cui può fare seguito una riduzione, in caso di un eventuale sinistro, di quelli che sono i danni materiali subiti dai beni stessi, i cosiddetti danni diretti. Una migliore protezione della continuità operativa dei processi e delle attività aziendali, a cui fa seguito una possibile riduzione, in caso di sinistro, della perdita di fatturato conseguente al fatto che non ho la disponibilità di quei beni danneggiati, i cosiddetti danni indiretti. Ancora, un miglioramento del profilo dell'azienda o della pubblica amministrazione presso il mercato bancario e finanziario, che anche qui si può tradurre in un più facile accesso al credito e in generale un più facile accesso ai servizi bancari. Un miglioramento del profilo di rischio verso il mercato assicurativo, che si può tradurre nell'ottenimento di condizioni assicurative più favorevoli da parte delle compagnie d'assicurazione. Infine, ma non meno importante, un miglioramento anche consistente della propria reputazione e immagine nei confronti del mercato e dell'opinione pubblica in generale. A questo proposito, è interessante osservare i risultati di un recente studio dell'osservatorio Cineas, realizzato in collaborazione con Mediobanca e focalizzato sulle piccole e medie imprese italiane. Secondo questo studio, le imprese che gestiscono correttamente i rischi hanno risultati economici e finanziari mediamente migliori del 38% rispetto alle altre. La gestione dei rischi si sviluppa secondo un processo che comprende quattro fasi. La prima fase è l'individuazione e la quantificazione dei rischi, quella che viene spesso chiamata l'analisi e la valutazione dei rischi. La seconda fase è lo studio degli interventi possibili di riduzione dei rischi. La terza è il trasferimento, ad esempio assicurativo, dei rischi ritenuti non accettabili da parte dell'impresa. L'ultimo passaggio è la verifica dell'accettabilità dei rischi che vengono trattenuti, cioè la ritenzione dei rischi. Questo processo deve comunque periodicamente essere reiterato perché può cambiare il contesto nel quale opera l'azienda, ma può anche cambiare l'azienda stessa. Il primo passo del processo è l'analisi e la valutazione dei rischi, che permette di individuare i possibili eventi che si possono verificare e di valutarne le conseguenze. Le domande fondamentali che ci dobbiamo porre in questa fase sono, ad esempio, quali sono i punti deboli o di vulnerabilità della nostra organizzazione verso i rischi derivanti dal cambiamento climatico? Cosa viene fatto per ridurre la probabilità che si verifichino questi eventi dannosi? Cosa viene fatto per ridurre la severità di questi eventi? Una volta identificati i principali scenari e valutato il loro potenziale impatto sull'azienda o sulla pubblica amministrazione, il passo successivo è quello di definire le principali azioni di controllo e di gestione di questi rischi. I rischi si possono trattare e mitigare, ad esempio con misure di prevenzione e di protezione, e trasferire ad un soggetto esterno, ad esempio acquistando una o più polizze assicurative. In particolare, l'assicurazione è un contratto che garantisce una copertura finanziaria al verificarsi di un evento dannoso, chiamato sinistro, e in questo caso l'impresa trasferisce alla compagnia assicurativa le conseguenze o una parte delle conseguenze monetarie dell'evento dannoso. Però attenzione, sappiamo che non è possibile eliminare totalmente i rischi. Il rischio zero non esiste, e in particolare i rischi che derivano dal cambiamento climatico. Per questa ragione è importante per ogni impresa o pubblica amministrazione avere la piena consapevolezza della propria situazione, conoscere il proprio livello di ritenzione del rischio e quindi conoscere il rischio residuo, ovvero quello che rimane dopo aver seguito i vari passi del processo di gestione dei rischi. Questo perché quanto più elevato sarà il livello di ritenzione e quindi il rischio residuo, tanto maggiore sarà la quota di rischio di cui l'azienda dovrà farsi carico. Infatti, gli eventuali danni relativi a questa quota saranno sostenuti con mezzi finanziari interni all'impresa. Dallo sviluppo del processo di gestione dei rischi, è possibile anche definire il piano di continuità operativa dell'azienda, uno strumento molto utile per salvaguardare in modo efficace la continuità operativa di qualsiasi organizzazione, nel caso si verificassero eventi negativi. La preparazione preventiva, simulando quindi i vari scenari possibili e definendo le azioni più opportune da mettere in atto in una situazione di emergenza, consente all'impresa di reagire appunto nel modo più rapido a una situazione di crisi, in particolare in caso di rischi climatici, assicurando quanto più possibile, come dicevamo, la continuità operativa e garantendo quindi la sopravvivenza, migliorando la resilienza di tutta la struttura. Per aiutare le aziende a sviluppare il proprio processo di gestione dei rischi, sono disponibili oggi diversi strumenti. Uno di questi è lo strumento di autovalutazione del rischio climatico sviluppato nell'ambito del progetto DERRIS. Lo strumento DERRIS consente la geolocalizzazione dell'impresa e le permette di avere una indicazione qualitativa del livello di pericolosità dell'area nella quale sorge. Il tutto sulla base di sette mappe di pericolo che corrispondono ai principali sette eventi naturali che sono stati considerati alluvione, pioggia, vento, fulminazione, grandine, temperatura e frana. L'insieme delle informazioni specifiche raccolte sull'azienda in esame, che vengono raccolte attraverso semplici domande, permette poi di valutare la vulnerabilità dell'azienda e di darle un'indicazione del suo livello di rischio rispetto ai sette eventi climatici che abbiamo considerato. Sulla base poi delle informazioni acquisite, lo strumento fornirà automaticamente i suggerimenti principali per mitigare il rischio relativamente alla tipologia di evento considerato. E in funzione delle risposte che verranno fornite dall'azienda e dei suggerimenti che l'azienda sceglierà di inserire nel proprio piano d'azione per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il tool DERRIS calcolerà anche l'indice di residenza dell'azienda, il quale è un parametro molto importante perché fornisce una indicazione della situazione attuale della nostra impresa rispetto alla situazione dopo che gli interventi correttivi verranno attuati. Abbiamo visto che per gestire nel modo più efficace una crisi da evento climatico occorre prepararsi prima che l'evento si manifesti, dotandosi degli strumenti più opportuni per migliorare in modo importante la resilienza del sistema azienda. Ma allora perché è importante essere preparati? Numero uno, perché le crisi legate ai cambiamenti climatici non sono pianificabili, ma certamente possiamo prepararci ad affrontarle nel modo più efficace. Due, perché i costi di una crisi potrebbero essere drammaticamente elevati e occorre evitare che un'eventuale situazione negativa che colpisca la nostra azienda abbia un'evoluzione tale da portarci addirittura fuori dal mercato. Tre, perché i clienti, gli utenti e il mercato in generale si aspettano sempre una continuità di fornitura o una continuità nell'erogazione dei servizi. Quattro, perché essere preparati è un indicatore di grande consapevolezza e di una grande gestione responsabile e lungimirante da parte dell'impresa. In sintesi, cinque, perché gli investimenti nel campo della gestione dei rischi aumentano sempre il valore dell'organizzazione, preservano e migliorano la reputazione e l'immagine aziendale nei confronti del mercato, migliorano la valutazione dei rischi da parte del mercato assicurativo e migliorano il profilo dell'impresa verso il mondo creditizio e finanziario.